E ora in partenza per la prima mancia di finale, Ivan Italia, pista blu contro Roby Sudafrica, pista rossa. Questo è il primo rungo della finale, tra Ivan rappresentando l'Italia per il blu controllo, tra Roby rappresentando l'Italia per il blu controllo, e infatti sono davvero nervosi, quindi hanno avuto un'altra volta, hanno perduto solo l'inizio. L'inizio è stato fatto, questo è il vero, vieni a vedere, tra Ivan e Roby per il primo rungo, Ivan per il blu controllo, Roby per il blu controllo, vieni per il primo rungo, 8.12 secondi, vieni per il primo rungo, Ivan versus Roby, solo 8.12 secondi, vieni la prima mancia, Ivan contro Roby. Ecco i i primi maestri. E qui abbiamo la Michela, la Carlotta, il Daniel e il Cristian. 3 posizioni, Herman rappresentando Herman, 4 posizioni, Manuel rappresentando Green, 3 times. E la Sopra sono tarditi per la tiaccolata finale. Allora, now let's start with the torchlight, that's our ending of the show. Let's go. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.